Formigoni, devo dire che a leggere il suo curriculum lei sembrava destinato a una carriera politica sostanzialmente eterna, parlamentare europeo, deputato, segnatore, sottosegretario, presidente della regione e quattro mandati consecutivi, ma a un certo punto, mi dica la verità, si sentiva onnipotente? Ma no, innanzitutto la ringrazio per questo invito che mi fa molto piacere. Francamente nella presentazione avrei preferito che deste spazio anche alle tante realizzazioni che ho fatto e che mi hanno fatto essere il beniamino degli elettori, perché vorrei ricordare che io mi sono presentato a 12 elezioni e sono sempre stato il primo degli eletti. No, no, quattro mandati in regione Lombardia, ogni volta con voti crescenti, il che vuol dire che i 10 milioni di lombardi erano soddisfatti della mia azione di governo. Avrei preferito vedere qualcuna di queste realizzazioni, ma non ce l'ho con lei, Mirta, perché di nuovo la ringrazio per l'invito. Voglio dire che la mia vita politica è ricchissima di successi, di novità, di riforme. Ripeto, i cittadini mi hanno sempre votato, non solo le quattro volte in regione Lombardia, ma le due volte al Parlamento Europeo, le quattro volte al Senato, le tre volte alla Camera dei Deputati, ogni volta come primo degli eletti, proprio perché le riforme che avevo realizzato, da quella della sanità, quella della scuola, quella dei trasporti, avevano migliorato la vita dei cittadini. Io non mi sono mai sentito onnipotente, non ho mai parlato di riforme fatte da Formigoni, ma fatte dalla squadra che avevo intorno a me. Assessori, consiglieri, ho sempre ricorso ai pareri degli esperti, un po' l'opposto di quello che avviene oggi. Ho sempre avuto rapporti molto importanti con l'università, con i centri culturali, sentivo il parere di tutta questa gente per poi trarre il meglio e fare le realizzazioni che, ripeto, poi ai cittadini sono piaciuti. Allora, però scusi, dato che hai toccato il tema sanità, entro subito su quello, no? Perché io ho raccontato purtroppo in questi durissimi 16 mesi una sanità lombarda che anche io, francamente, consideravo la migliore d'Italia, dalle mie parti, io sono napoletana, stivo nella Faviaggi della Speranza a Milano per farsi curare, quindi per dirle. Eppure l'ho vista in ginocchio e tutti hanno detto errori madornali. Troppo privato, troppo accentramento negli ospedali, poca medicina territoriale. Cioè, ha mostrato tutti i suoi limiti quella sanità lombarda che era invece il suo grande progetto, non trova? Eh sì, ma vede, purtroppo la sanità lombarda di oggi è molto diversa dalla sanità che avevo costruito io e i miei collaboratori. Perché chi mi ha succeduto alla presidenza di Regione Lombardia ha dimenticato, ha trascurato uno dei due pilastri della sanità. I due pilastri della sanità sono le strutture ospedaliere che sono rimaste straordinarie, eccellenti, le migliori d'Italia, come ricordava lei, e la medicina territoriale fatta dai medici di famiglia, dai medici di base, da quelli che lavorano sul territorio. Purtroppo la riforma che hanno voluto fare dopo di me ha dimenticato queste strutture di territorio. Quindi lei non ha sbagliato nulla, non ha sbagliato dopo. Che avrebbero potuto avvertire l'arrivo della pandemia. Come? Mi scusi? Dico, lei nulla ha sbagliato. Una medicina... ma no, io errori ne ho fatti tanti, ma non gravi. Tant'è vero che le classifiche nazionali mettevano sempre la Lombardia al primo posto ed erano basate su un'ottantina di dati molto importanti. Purtroppo quello che è stato sbagliato dopo di me è stata questa mortificazione della medicina territoriale. Se fosse stata forte, i medici del territorio avrebbero potuto percepire e segnalare l'arrivo di qualcosa di strano. Scusi, vedo che Alan vuol dire una cosa. Ci sono due medici. Ho capito, Formico, no, no, mi è chiarissimo. È venuto a meno la parte territoriale. Che volevi dire, Alan?